Buongiorno, ben trovati all'appuntamento del mattino con le notizie dal web della città. Come sempre iniziamo la puntata collegandoci con Walter Germi che dalla centrale operativa della Polizia di Municipale ci dà le notizie sulla viabilità e sul lavoro in corso per la giornata di oggi. Buon mercoledì 8 giugno. Strada Tessano uscita a stadio dell'Alpi 3, via Carrera, angolo via Asinari, Bernese e Capelli, lungo Dorra Voghera, angolo Corso Cadore. Nella notte prossima tra mercoledì e giovedì dalle 0 alle 6 chiusura sotto passo dell'ingotto per operazioni di pulizia meccanizzata. È tutto, buona giornata, buon viaggio. Grazie a Walter Germi, riprendiamo il telegiornale con le previsioni del tempo. La stazione di via Meucci in questo momento ci dà un'umidità dell'86%, abbastanza elevata, è una temperatura reale sui 17 gradi, mentre quella percepita è di poco superiore, 17,3. Continua il maltempo anche oggi con il cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse che si intensificheranno nel pomeriggio. Le temperature minime sono in calo tra i 10 e i 14 gradi, mentre le massime in aumento tra i 20 e i 23 gradi. Diamo un velocissimo sguardo all'ultimo numero di Torino Click, come sempre scaricabile in PDF dall'home page della città. È uscito ieri sera, si parla della prima riunione della giunta Fassino che ieri si è riunita per la prima volta in sala dell'orologio. Il sindaco ha annunciato, ha confermato l'appuntamento del martedì ogni, scusate, ogni martedì alle ore 11, il giorno dopo si riunirà tutte le settimane alle ore 16.30 il Consiglio Comunale. Agli assessori Fassino ha chiesto di preparare un piano di lavoro con gli indirizzi programmatici che intendono perseguire nel corso del proprio mandato. Continuiamo con una notizia sull'home page della città, parliamo del fatto che la Polizia Municipale Torino Informa comunica che lo sciopero aziendale GTT di oggi, mercoledì 8 giugno, è stato annullato da tutte le organizzazioni sindacali che lo avevano indetto. Pertanto tutti i servizi di trasporto GTT si svolgeranno regolarmente. Finiamo come sempre con uno sguardo alle webcam disseminate per la città fornite da Consorzio 5T, Corso Moncaglieri direzione nord, vediamo una situazione di traffico abbastanza agevole per gli automobilisti, continuiamo su Piazza Derna direzione sud, anche qui in questo momento non sembrano esserci particolari problemi alla viabilità, continuiamo su Corso Vittorio Angolo Corso Massimo d'Azeglio direzione ovest, macchine in corsa sulla strada e finiamo su Corso Turati Angolo Corso Sommelier direzione ovest, per fortuna anche qui una situazione abbastanza tranquilla. Bene, per quest'oggi è tutto, ci rivediamo oggi pomeriggio alle 16.15 con l'appuntamento culturale e per le notizie dal web torniamo domattina intorno alle 9.15, come sempre un ringraziamento a Paolo Mosso per la messa in onda, vi auguro una buona giornata. a 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